Ci troviamo al comunale di Francavilla al Mare per la gara terza giornata di andata del campionato provinciale giovanissimi, tra il Francavilla Calcio 1927 con la classica divisa blu scura e la Virtus Castelfrentano con la classica maglia giallorossa. Qua c'è il mister Proietti con la felpa orange, c'è la panchina un po' corta, ecco c'è l'ingresso in campo, gli ordini del direttore di gara della sezione di Chieti, ecco c'è l'ingresso in campo. Ecco, fischio di saluto al pubblico, ecco i nostri ragazzi. C'è la scelta del campo. Ecco, si salutano, mentre il direttore di gara va a controllare l'altra rete, l'altra porta. in bocca al lupo, in bocca al lupo, ecco, andate. in bocca al lupo, ecco i nostri calico il ci leggeri. in bocca al breford, ecco i nostri calico il lo Grazie.